segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te formato ad 8.000 comuni che come tutti sanno oltre 6.000 hanno meno di 5.000 abitanti quindi è chiaro che in quell'entità bisogna in qualche modo lavorare in sistema bisogna consociarsi bisogna lavorare in un spirito anche di condivisione non solo del proprio interesse del proprio comune ma di quello che l'ambito del territorio stesso perché è chiaro che prendere i fondi del pnr non è una cosa facile prendere i fondi del pnr consente anche di non solo portare risorse ma in qualche modo di avere poi quella capacità anche di progettazione di esecuzione e poi dire in contazione come facciamo se grande parte dei soldi del pnr vanno al sud come facciamo beh io le devo dire che se non si colma questo gap no il paese soffre soffre molto ma noi dobbiamo fare del dobbiamo fare anche dei progetti secondo me fossero maggiormente indirizzati perché nei piccoli comuni quando si sono fatti dei finanziamenti ad hoc prendo per esempio al bando dei borghi c'è stata una partecipazione molto elevata di comuni che non neanche soddisfatto poi quella che è stata graduatoria è chiaro che su questo c'è stata una specificità c'è stata una peculiarità quello che manca ai territori è punto il personale noi le devo dire che col primo provvedimento pnr ancora col governo draghi di cui sono stato anche relatore la prima cosa che abbiamo fatto proprio è quello di dare quel personale che purtroppo per quella che la burocrazia per quella che la lentezza molte volte l'italia non si è arrivati a dare veramente in quel momento quelle risorse che erano importanti necessarie adesso so che fitto sta preparando un decreto per dare un booster diciamo alla pnr che prevede molte cose credo ci vorranno almeno tre settimane perché sia presentato questo letto nelle previsioni infatti quello c'è stato un confronto molto importante significativo sia con l'associazione dei comuni che con l'upi che con le regioni noi le devo dire come forza italia abbiamo dato un contributo molto significativo ma bisogna semplificare quella sia la parola d'ordine voglio fare un passaggio